La parola scuola ha aperto martedì 21 novembre nella sala ipogea della Mediateca Montanari la settima edizione della rassegna con le parole giuste organizzata dall'assessorato alle biblioteche e la legalità democratica del Comune di Fano dalla Mediateca Montanari, Memo Biblioteca Federiciana dalla Fondazione Federiciana e dall'Associazione Nazionale Magistrati Sezione Marche con la collaborazione dell'assessorato ai servizi educativi del Comune di Fano e Fano Città dei Bambini e del Bambine Il primo appuntamento ha avuto come tema scuola superare la povertà educativa ed è stato introdotto dalle parole dell'assessore Samuele Mascarin Povertà e disuguaglianza educativa, affermato Mascarin, fanno parte purtroppo del nostro presente e questo deve interrogarci tutti, educatori e amministratori La parola è poi passata a Valeria Cigliola dell'Associazione Italiana Magistrati Sezione Marche che ha posto l'accento sugli articoli 33 e 34 della Costituzione Italiana nei quali si fa riferimento alla libertà di insegnamento di cui Don Milani fu uno dei modelli più importanti e si pone l'attenzione sulla tutela del diritto allo studio Cuore dell'incontro è l'intervento di Giulio Cederna giornalista, ideatore e curatore dal 2010 dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia di Save the Children edito per il secondo anno consecutivo da Treccani arrivato alla sua ottava edizione e quest'anno interamente dedicato al mondo della scuola Cederna intervistato da Valeria Cigliola ha illustrato finalità e obiettivi dell'Atlante che attraverso analisi interviste, dati, mappe, immagini e una ventina di parole chiave fotografa la realtà della scuola italiana, i suoi problemi e i suoi bisogni senza tralasciare esperienze ed esempi positivi Dati alla mano ha fatto un escurso sulla popolazione italiana soffermandosi prima di passare alla dispersione scolastica vera e propria sulle questioni della denatalità, ponendo l'accento sul fatto che tra il 1961 e il 2017 si sono persi per strada quasi 4 milioni di bambini sotto i 15 anni passati da 12 a 8 milioni, circa un terzo, della popolazione in età dell'obbligo e sui minori poveri assoluti in Italia Per quanto riguarda la dispersione scolastica cederna ha sottolineato che le regioni del sud, in particolare Sicilia e Sardegna sono le più soggette a questo fenomeno mentre il nord e il centro riescono ancora ad arginarlo grazie a un efficace sistema di formazione professionale Altro dato interessante è che la dispersione scolastica riguarda più il mondo maschile che femminile e moltissimo i ragazzi immigrati anche se, come ha affermato Cederna le famiglie immigrate rispetto a quelle italiane credono molto di più nella scuola come valore di emancipazione e protezione sociale e quindi, come ha affermato il nostro corso e quindi, come ha affermato il nostro corso e quindi, come ha affermato il nostro corso